Tante squadre ti hanno cercato, l'Escano, ma tu subito hai detto che volevi Pescara, perché? Sì, perché è una grande squadra, una grande piazza, anche a livello di storia. Io ho avuto la possibilità anche lo scorso anno di venire qui, purtroppo non ci siamo riusciti con i miei agenti e adesso ho avuto la possibilità quest'anno concreta e non ho voluto aspettare nessuno. Come hai detto tu, avevo anche altre piazze, ma credo che il Pescara è una squadra talmente grande che per la categoria, ma anche per la Serie B, che non si può dire di no. Abbiamo notato una cosa, credo sia molto importante, arrivi da tre stagioni, tre professionisti, tutte e tre in doppia cifra. Per un attaccante che fa anche tanto lavoro per la squadra è importante. Sì, sicuramente tre anni fa, da Siquale Onsio, ho fatto 13 gol, è stato il primo anno di Covid, comunque la squadra ha l'obiettivo di salvarsi, quindi anche lì credo che i gol siano stati importanti per aiutare la società e tutti a mantenere la categoria. Lì a San Benedetto, penso che lo sapete tutti, abbiamo fatto un anno senza soldi, quindi anche lì aver fatto 12 gol è stato un doppio motivo d'orgoglio. L'anno scorso, fino a Natale, ho fatto 7 gol in 15 partite, quindi anche io personalmente ho pensato di farne una quindicina, dopo ci sono state delle problematiche, per cui ho rallentato un po', ma credo che il gol è sempre importante, ma soprattutto aiutare la squadra, credo che per chi capisce anche di calcio, lo vede anche da fuori questo. Infatti hai detto una cosa importante, allora ti vado a chiedere proprio sulle tue caratteristiche, prima punta con quali caratteristiche specifiche? Sì, sì, una prima punta che, come dicevo prima, vive molto l'area di rigore, mi piace venire incontro, aiutare la squadra, ma nell'ultimo periodo ho imparato anche a attaccare gli spazi che comunque in Lega Pro è una cosa che serve anche per dare ossigeno alla squadra quando in difficoltà e niente, sicuramente sacrificio e poi quando il pallone arriva in aria diciamo che lì è il mio punto forte.